Ciao a tutti, sono Nelle Meraviglia Oggi voglio provare a fare questo video un po' particolare Perché tutti fanno shopping super lusso, costoso Io voglio fare economico Come sapete io sono una grande fan di Dollskill È praticamente il mio sito preferito, ci collaboro pure, eccetera, eccetera Però c'è da ammettere che a volte hanno delle cose veramente indecenti o scene Di solito le buttano nella sezione sconti E non so chi se le pia Vi ricordate questa felpa? I filz, i filz Vabbè, comunque oggi andrò a vedere la sezione sconti di Dollskill E creerò un outfit scegliendo i prodotti più economici del sito Quindi io veramente ho paura di vedere cosa ci troverò in queste sezioni Tra l'altro oggi è Black Friday Quindi ne sto approfittando proprio perché non me l'abbia sganciata lì No, vabbè, però vediamo anche quanto ci viene a costare l'outfit più economico su Dollskill Prima di tutto andiamo sul sito Wow, wow, wow Ok, come vedete ci sono gli sconti, tutto bello Io direi di andare sulla sezione clearance Iniziamo con top Wow, che bello Mettiamo il filtro Price lowest Guardate, non voglio vedere Cos'è la cosa più economica? Oh mio Dio Allora, il primo Questo qui non lo posso mettere Perché raga, è plus size Penso proprio che prenderò questo Dove c'è scritto anche last one Però aspettate Costano tutti 5,04 Quindi posso fare una scelta No, ok La mia scelta sono tra questi tre Cosa vogliamo? La magliettina un po' colorata O una classica bianca così Dai, prendiamo quella colorata perché è l'ultima Fammi vedere la taglia Se non c'è la mia taglia no però L'hanno comprata ora l'ultima Mi dispiace, non posso averla Prendiamone un'altra Direi questa, dai, più carina Una classica magliettina della salute Certo, compro una canottiera su Dolsky Il mio è della taglia Large Ma forse mi va larga Il mio è dell'altra incrociata Beh, raga, comunque voglio un outfit che mi stia bene addosso C'è solo large Large Io apro tutte le cose che secondo me Questo sold out adesso Ma vabbè, ma lì cazzi c'è C'è solo cose L Perché doppia la L di Livia? È giusto Guarda, se c'è questo mi arrabbia Sì, ma con questa massa lì di prezzo Large Large Sono rimaste solo le cose large Aspettate, c'è questo one size Vai Scelto questa canottierina con un po' di pizza Sceno Vai, taglia unica Add to bag Adesso Bottom Qui c'ho paura, eh Price lowest Oddio, oddio Ma che è? Sì, penso che la cosa più economica Siano questi pantaloni Bucherellati Rosa o verdi? Rosa o verdi? Rosa, dai Più belli, rosa Vediamo se c'è la mia taglia Ovviamente Taglia unica Perfetto Perfetto Vai, aggiungi Raga, ma che cos'è quest'outfit? Outwear Così Una giacchetta da abbinarci Oddio, magari questa Raga, non mi devo distrarre Price lowest No, vabbè Dai, da abbinarci Sto coso Allora, questi tre hanno il prezzo minore Lo prendiamo giallo che fa da contrasto O rosa per fare tutto abbinato Io direi giallo che fa da contrasto Dai, su Ah, qui posso pure scegliere la taglia Dai, prendiamo una L Che le giacchette oversize vestono sempre Shoes Raga, shoes Wow, che bella questa pagina Poi ogni volta che fai Price lowest Guarda che cos'è No, le cioce no Dai, mi piace Raga, le cioce Non mi direi che ci sono solo le cioce Però ragazzi Devono essere della mia taglia Quindi vediamo quali troviamo Allora, com'era il mio outfit? Scusa, vammelo a vedere Ok, giallo e rosa Quindi qualcosa da abbinare Forse queste coccodrillate Indecenti ragazzi Indecenti Indecenti Non mi sono detto Questi ci stanno Non lo so, secondo me è meglio il coccodrillo rosa o viola Raga, non lo so Fanno tutte abbastanza cagare Dai, prendiamo il coccodrillo giallo Così si abbina la giacchetta Ma pensate tipo a quelle che impacchetteranno il mio ordine Tipo, ma questa è impazzita Ma comunque Scegliamo degli accessori Dammene uno Di accessorio carino I calzini bianchi Te li tieni Te li tieni proprio Raga, io non lo so Non so cosa voglio Sinceramente È tutto abbastanza indecente Non so cosa ci si possa abbinare A quella cacata Prenderò queste mollette Che ho scritto Leo Soldato proprio adesso Allora prendo queste Quest'arcobaleno Vai Vai Bellissime Che altro manca? Cosa c'è in beauty? Price lowest Ah, sono delle maschere facciali Raga Però qua ci sono dei glitter Blu Un po' scenenico Ma scusa Ma non ci sono di altri colori Prenderemo questi glitter blu Sicuramente abbinato a tutto Ed ogni niente Andiamo a rivedere il nostro carrello Abbiamo I glitter blu Le mollettine per i capelli Le ciocce di coccosillo giallo La giacchetta gialla Con i pantaloni Che non mi sembrano molto pantaloni Però rosa Con la magliettina bianca E un cappello in regalo Grazie Per un totale di 47 dollari Vabbè dai Sette cose 47 dollari Sono cose un po' oscene Però adesso faccio l'ordine E vediamo Quando mi arriverà Oh my god È arrivato il pacco Andiamola ad aprire Ragazzi Sono emozionata In realtà è passato poco tempo Tipo 5 giorni Penso Andiamola ad aprire Mi ricordo che c'è una cosa In scena Ma non mi ricordo Allora abbiamo questo Che era la giacchettina Ah che vi dirò Il colore mi piace molto È proprio un classico verde fluo Questo bucherellatino Non lo so Però vediamo Ah questo Come si avvinerà bene A quello lì In una maniera Ah sì Questi pantaloni Che sono pure attaccati Mi sanno un po' di pantaloni Da ciclista Voi no Un po' dai raga Non potete negarlo Però insomma dai Questi sono i miei colori Va bene così In questa scatola ci sono La maglietta È vero Avevo preso pure la maglietta Quasi dimenticavo Bianca così Proprio tipo Mi nonna Cioè non lo so Le mollette Nulla di che Ecco Non mi fanno impazzire sinceramente E i glitter per la faccia Questi in realtà Sono curiosa di provare Dove sono le cioce? Dove sono le cioce? Scusate Qua mi hanno regalato pure un cappellino Fammi vedere sta meraviglia dei cioce Guarda raga Tra l'altro la marca è Wild Diva Quindi non so se è il destino Non so veramente come descrivere questa cafonata Però vabbè In realtà sono curiosa di vedere come mi calza tutta questa roba Quindi andiamo a provare Raga siete pronti a vedere? Alaska sta fremendo Come avete dovuto vedere Alaska Non vedi l'ora? Si stai scatenando proprio eh Iniziamo questa sfilata trash E questo è l'outfit Raga io veramente mi sento a disagio Cioè non guardatevi vestita così Vi giuro Tra l'altro si scusate che ho tenuto le calze Però stavo morendo di freddo E in più non volevo essere completamente a culo all'aria Ecco diciamo che questi pantaloni Sono veramente pernudisti Le cioce veramente indecenti Sono pure un po' scomode Perché hanno questa parte qua un po' troppo stretta Io non ho i piedi ok? Lo sapete io non ho i piedi Però se dovete metterci qualsiasi cosa a forma di piede O un piede vero Sappiate che Farete molta fatica Questo giochettino Niente male ma Non lo so Non lo so Secondo voi come mi sta? Non indosserei mai? Boh Questa canottierina Sembra proprio la maglietta da salute Che dire Sbracchiamoci insieme È fichissima Ne sa proprio d'antico Queste mollettine Si abbinano con tutto Ma mi fanno un po' cagare Adesso voglio provare i glitter Quelli per la faccia Questi qua sono i glitter Diciamo non c'entrano un po' a niente Perché sono azzurri Però proviamo Me li metterò un po' qua sullo zigometto Tipo a mod di illuminante Guardate Sembra dentifricio Ma chi è? Mmm Quanti Odora un po' tipo di amuchina tarocca E ci sono certi brillocchi tipo marron Non proprio marron Ma tipo gialli Non so se li vedete Dorati Non so In realtà questi sarebbero glitter per il corpo Però insomma La mia face fa comunque parte del corpo No? Il video dopo Mi è caduta la faccia Ecco qua Questi sono i brillantini Che ne dite? Kawaii Sembra una scolaretta Sembra uno che è appena tornato da fare il jogging Però sul tapirulana è casa sua Stavo così a casa mia sul tapirulana Mi sono al corriere C'è un pacco Io tipo ti metto la giacca Corro Mi infilo le cioce al fly E sono giù dal corriere a firmare per il mio pacco Et voilà Questo è Che ne dite di questo outfit completo su DollSkill? Secondo me era più figo quello di Porta Fortese Una cozzaia di roba Forse le cose prese singolarmente A parte le cioce Abbinate in qualche modo strano Si potrebbero anche fare Ma buttate tutte insieme così Io dico Orribile Alla fine qualcuno ha apprezzato anche il cappello gratis Com'è? Si gratis Gratis è tutto Un po' stretto eh Un po' strettino eh Perché? Che ne so C'era forse una testa da donna Come Svetlana lì giù Beh devo dire che a Svetlana sta tutto bene Anche così? Si Che bello Sembra tipo un sedicenne che si fa la foto Il selfie a casa da quadro No a casa da nonna A casa da nonna Si fa il selfie così Roma tremate che arrivo E dietro ci sta il quadro della nonna Vabbè questo è il cappelletto omaggio Comunque mi hanno scordato di menzionarlo E quindi niente ragazzi Questo è l'outfit più economico di DollSkill Continuate ad ascoltare la mia song Natale sgravato Ve la lascio qui E ho la fine del video Ci vediamo domani alle 14.30 Con un nuovo video E quindi niente Io spero che questo video vi sia piaciuto Ciao 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 Grazie a tutti.